amici miei del tubo ciao eccomi qua come state state bene forse c'è una novità forse c'è una novità forse cambio casa finalmente me levi su fango io ne abito perché caso non amassata di fango invidiosi sparlettieri si appregano quando io arrivo con i sacchetti della spesa che spesa faccio che viene a me casa che non viene a casa mia quando lavo quando stendo hai capito quindi oggi ho chiamato in un posto dove mi hanno detto signora c'è una casa per lei deve solo venire a vederla dice ma come lei parla la casa è come la vuole lei sei gabinetti sei mi e che ne fare signora sei gabinetti un gammarino è una senza dire che ne fare di sei gabinetti io ricordo io che signori miei come fanno c'è ma dico affittano ste case con sei gabinetti io non lo so c'è come si fa dico io un cammarino una stanza eletto un cucinino e sei gabinetti ci ho detto mi vuole dire perché dice signora voi quanto siete ci siamo due dice figli non è a sì dice anzi dice gabinetti ce ne volessero che lo sai dice di quanto voi siete in famiglia c'è perché i gabinetti sono personali ma quale personale è personale ricordo io capito quindi sto cercando casa non la vado neanche a vedere poi ritornando chiamo una dice signora guardi dice io c'ho una casa meravigliosa quattro vani e quattro e addirittura è penso quattrocentosettanta metri quadrati un saccio quanto sono quattro vani dice che su stanzona ci disse ma questa casa dove dice signore è un ex caserno può ma così è immagino signori miei il bello che io ci ho dato il budget di quanto io voglio spendere al mese perché stavolta dico ci dobbiamo confondere nell'affitto della casa stavolta ci disse pago quattrocento euro signori miei e allora uno è una persona quello che spende mangia dicono che quello che spende ma ci dice io pago quattrocento euro dice signora dice c'è sta casa ditemi voi la devo vedere o non la devo vedere questa dove abito io è troppo graziosa ma quello che non serve è il condomino o condominio che darò pian terreno i mascoli già se ne ne ce ne faccio gli affari miei io non lo dico a nessuno non l'ho mai detto a nessuno che quella del pian terreno i mascoli già se ne ne ce 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 ne a me a me che io sono la regina del sapere il tutto dico io signori miei ancora l'hanno caputo che sono messe con una sbagliata capito si fregano le lampadine e miscano a mia gente che ci sparisce l'acqua davanti a poeta sai una sale le cassettine dell'acqua allora capita che una la lascia una davanti la porta perché entra magari possa le altre poi riprende quelli e non la trova più vicino casugno io mi scanciano hanno scambiato loro con il piombo io non riesco a capire ancora e quindi me ne dire basta quella di sopra che sembrava buona che ha cominciò una volta cipurre una volta l'aggia una volta l'oglio una volta passa una volta caffè una volta l'ammorbidente signori miei ma ci pare ma ci pare che qua c'è scritto convenienza io non lo so che devo fare quindi voglio una casa a solo dove io posso pulire la scala e mi dura saccio che i pere che metto sono chi di mia so che posso urlare quanto voglio so che mi posso mettere lo stereo con le canzoni napoletana camatenata quando io mi alzo e mi alzo alle cinque meno cinque alle cinque già c'è la caffettiera messa perché alle cinque meno cinque mi alzo alle cinque alle sei già un bidet è fatto quindi io è la prima cosa che faccio bagno e bidet poi la caffettiera caffè un mischio con antiche latte che si fanno le sette dieci le sette un quarto perché io in cucina perdo tempo un'ora lo perdo il biscottino del latte guardo la televisione le notizie tutta è nata finisciuta il giornale ha cominciato con l'orologio che fa così che mi ricorda che ore sono io usaggio casunisi e terrieri sul roggio capa i sette dei i sette basta quindi monto la lavatrice ripulisco la cucina a forno perché ci fanno la lavati di sera sì ma la notte la nottata chiama polvere capito io voglio sempre tutte cose lucide comincio a svegliare mio marito io sicuro se pazzo io neanche io per caso è non disturbo a nessuno e intanto hai una massa di meriuse su premia ma ci va a passare questa festazione ci va a passare questa malattia e ci va a passare e quindi ci risse ora loro non sanno niente non sa ora poi chiamerò un amico mio che fa trasloca ma sacca dico signori miei capito tempo fa un amico mio sempre con trasloca non ha voluto niente cioè per un trasloca mi ha chiesto 50 euro mi rompevo tutti i mobili capito è il cavia pari ci si ma come mai tutto rotto e anche lui giustamente mi ha risposto quello che spendi mangi allora visto che c'è il suo fatto di lo che spendo mangio signori miei la casa deve essere buona io rifaccio l'annuncio cerco una casa quadrovana quadrovana si dice quando hanno quattro istanze così si cerco una casa quadrovana di tutti i confort voglio caldaia a mia su metà spina ruschetta bagno leva la spina ruschetta bagno rimette la spina ruschetta bagno per risparmiare luce si deve levare quindi caldaia con metana calcusta picca la voglio tutta climatizzata tutta climatizzata io anziché di surura casculano raccossi devono essere asciutti io devo camminare con la sciallina d'estate è nuda d'inverno scusate ma deve essere tutti lo desideriamo una cosa del genere giusto o possibilmente con un trita in bondizia sapete ci sono queste case che mettere in bondizia la e te la trita non c'è bisogno di fare la differenziata fare dire per dire tempo sa che te te lo picchino sa che te lo picchino che non ne posso più questa balcone ariati bene sistemati e a sola a sola che se tu io voglio cliccare aria ai ecco e non mi sento no no che dove abito io ora signori anche basta un piccolo piritino così tipo e già lo sa già lo sanno già mi suonano per dire ha dolor di pancia ma vi immaginate voi ma può essere mai un fatto del genere va a finire sa camorrea deve finire e basta perché non può continuare così signori miei non può continuare tutti vogliamo la tranquillità e tutti vogliamo la bocca cuscita non si parla assai sopra le persone degli altri se non si conoscono io in questa scala passo per ladra passo per cortigliare passo che dicono che addirittura mi metto dietro una porta per orecchiare voi mi conoscete un tipo di questa voi mi conoscete un tipo di questa ma meno male le persone che mi vogliono bene giuse rossi marinella giuga giuseppe ragusa mammina mia paola e tutto il resto di come meno male che mi conoscono che tipo di donna io sono onesta che mi faccio gli affari miei e con me mesco con l'altra volta mio nipote è venuto c'è una cunga per te e perché me ne pote perché tu si cura si ca la cunga se mancio me ne pote quindi sciarra contro sciarra perché io poi non è che sono una che mi calmo a me la calma passa dopo 79 ore proprio le ho contate 79 ore quanti giorni sono non lo so io non ci posso pensare nelle cose me ne sogno anche la notte allora quando vado a letto la mente lavora a chiedere romana per la misuso le bagnare romane appena misuso c'è dirichissimo romane appena mi sentite tutti nella vita hanno un innamorato nascosto che non sappiamo io non lo so se ci sarà qualcuno innamorato di me non lo so chi su casa una cucina avate se sbentato un solo assomogliere che sa quanto coina ci ha fatto ma ancora inquieta femmine e inquieta pur a mia finché il giorno in cui lui passa con il treno e io con il fischetto faccio e lo faccio per mare lo faccio scendere e ho un chiumo come un bianco perché questo merita a me ha suonato signori a me perché sa dove abito si chiama polpi non lo so se si chiama polpi lo conoscete e va bene vi mando sempre un abbraccio grazie che mi seguite per i miei video ironaci sono ironaci non è sono video così tanto per passare il tempo per fare divertire chi non se lo vuole passare sapete quanto milioni di canali ci sono del tubo guardate gli altri non guardate me ma anche a voi vi voglio bene perché di tutte le cose che dicono la gente di quello che sono ho un cuore nobile e vi voglio bene un bacione affettuoso dalla signora titina ciao a tutti